VIVI settings Dimensioni 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 Do not worry Vinciate Dimissioni! Dimissioni Noi la crisi non la paghiamo Noi la crisi non la paghiamo Dimissioni 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 non ci rappresenta nessuno basta girare ascolto calmi no no stai sbagliando stai sbagliando stai sbagliando spingi 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 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Begoia! 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 Dimissioni! Begoia! 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 Cerchiamo! Dimissioni! Indietro si cazzo dei giornalisti, forza! 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 Indietro si cazzo dei giornalisti! Indietro si cazzo dei giornalisti! E passate sotto il quadro del quattro, insanziale... Oh! Vieni! No, 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 no.